Ciao, ho voluto realizzare questo video per raccontarvi la storia di un brano che pubblicherò a breve Iniziamo a marzo 2019, ho recuperato il video di una diretta su Instagram, una jam su due accordi Ed ho scelto di crearci su un beat Ho pensato però di voler realizzare qualcosa che rendesse partecipi a più persone in maniera quanto più libera possibile Ho pubblicato su Instagram due, tre virgolette annunci, questi Il primo E questo Chiedendo a musicisti o cantanti di collaborare Nessuno ovviamente aveva delle direttive in merito all'arrangiamento Quindi successivamente una volta raccolto tutto il materiale Ho fatto un po' un taglio e cuci Non si sapeva a che direzione il brano avrebbe preso Sicuramente il beat iniziale dava un'idea di ciò che avessi in testa Però ogni musicista ha poi messo qualcosa Ha caratterizzato se vuoi il brano Voglio ringraziare tutti i musicisti per essersi messi in gioco Appunto perché per la fine questa cosa questa è un grande gioco Di cui però io sono stracontento Voglio ringraziare anche Andréa Cipria Inarte Stereo Cool e Lele Gambera Cercateli, ascoltate la musica che producono perché meritano Per aver curato il mix e il mastering del brano Realizzare questo video parlando è stata probabilmente una delle sfide più grosse della mia vita Quel ciao era tremendo Ciao, ho voluto Ciao Ho voluto E nel prossimo Orca Spero che questo video possa essere l'occasione Vaff Vi lascio con una carrellata di video dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto E ci vediamo per il resto con il brano Ciao Ciao Ciao